Vi siete mai chiesti cosa succede a mettere la testa al centro di un acceleratore di protoni e poi accenderlo? Anatoly Petrovich Bugorsky è la risposta a questa domanda. Ovviamente non fu un esperimento, bensì un incidente. Era il 13 luglio 1978 quando ci fu un guasto ad un'apparecchiatura interna al sincrotrone U70 a 100 km da Mosca. Solitamente la porta d'accesso al tunnel in cui venivano accelerati i protoni veniva bloccata durante gli esperimenti e a segnalare ciò vi era una luce rossa per indicare i test in corso. Sfortuna volle che il bloccaggio della porta fu disattivato e la lampadina rossa bruciata. Nonostante Anatoly avesse avvisato i colleghi durante la manutenzione il fascio di protoni venne sparato lo stesso investendo la testa di Anatoly ed oltrepassandola. Anatoly sostenne di aver visto un lampo più luminoso di 1000 soli ma non sentì nulla e c'è finta di niente e continuò a lavorare senza raccontare il fatto ai colleghi. Durante la stessa notte la parte sinistra del suo volto si gonfiò e nei giorni successivi la pelle iniziò a staccarsi proprio nei punti percorsi dal fascio di protoni. Dato per spacciato, vista la dose di radiazione subita, venne portato in una clinica dove poter osservare e studiare il decorre della sua malattia fino alla morte, cosa che non avvenne però. Infatti è tuttora vivo, perdendo però l'udito all'orecchio sinistro e paralizzando la parte sinistra del volto ma senza danni alla sua capacità intellettuale. Successivamente comparverò anche episodi gravi di crisi epilettiche e di convulsioni che persistono tuttora. Si ritiene che nonostante la letalità delle radiazioni che avrebbe dovuto ricevere, sia ancora vivo per via della minima interazione che hanno avuto i protoni con la sua testa, attraversandola senza molta interazione.